allo scopo di manipolare tassi Oribor e Libor. Come risulta la stessa interrogazione alla richiesta di accesso agli atti della Commissione europea da parte del Movimento 5 Stelle, la Commissione ha risposto che la pubblicazione del documento potrebbe arrecare pregiudizio alle indagini ancora in corso e che la normativa europea tutela la riservatezza delle banche condannate. L'altra parte, la Commissione, competente esclusiva in materia di antitrust, si è impegnata pubblicamente a rendere noti i motivi della decisione, che sono indispensabili per una valutazione completa dell'impatto. Si ritiene quindi opportuno attendere il corretto e completo espletamento dei lavori della Commissione per valutare le eventuali implicazioni per l'interesse nazionale. La ringrazio a facoltà di replicare il deputato Daniele Pesco. Grazie, Presidente. E come al solito la risposta del Ministro non solo ci lascia insoddisfatti, ma ci lascia sbigottiti e addirittura irati per la insolente inattività del Governo nelle sollecitare nelle sedi opportune la pubblicazione di questa famosa sentenza che permetterebbe ai cittadini italiani di essere risarciti dalle banche che hanno fraudulentemente manipolato il tasso Euribor, cagionando in questo modo costi aggiuntivi, supplementari per le famiglie e le imprese italiane che hanno sottoscritto mutui a tasso variabile e quindi proprio con riferimento al tasso Euribor. Come ha ben detto il mio collega Labbate, stiamo parlando di risarcimenti che potrebbero arrivare ai 30 miliardi per i nostri concittadini italiani e vale la pena ricordare che se venisse riconosciuto anche solo un punto percentuale di scostamento dalla realtà, ebbene le banche si troverebbero a livello internazionale a dover pagare 4 mila miliardi. I fatti sono semplici, sembra che quattro banche per la determinazione del tasso Euribor, al posto di comunicare i tassi a cui prestavano i soldi ad altre banche, comunicavano i dati delle altre banche. Così facendo, praticamente hanno manipolato il tasso e hanno determinato un tasso più alto rispetto a quello reale. Ma chi sono queste quattro banche? Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Societe Generale. Innanzitutto va rivelato che tutte queste quattro banche sono specialiste in titoli di Stato per lo Stato italiano e quindi sono anche le stesse banche che vendono derivati allo Stato italiano, quei famosi derivati di cui noi abbiamo chiesto in ogni sede di poter visionare i contratti giusto per capire a quali spese andremo incontro. Quindi quattro banche che vendono derivati allo Stato sono le stesse che hanno manipolato il tasso Euribor, che probabilmente influisce sui derivati e chissà quanto lo Stato ci ha perso grazie a questa manipolazione. Ma andiamo avanti. E cosa sta facendo lo Stato per essere esarcito? A quanto pare nulla di nulla dalla sua risposta, Signor Ministro. Ma tutto questo è ancora insufficiente neanche per farla rossire, Signor Ministro, che rimane imperturbabile anche di fronte a 130.000 famiglie espropriate dal decreto salvabanche. Ebbene, vale la pena quindi ricordare che la Banca d'Italia ha incaricato Società Generale, proprio una di quelle quattro banche che hanno frodato, una delle quattro banche truffatrici, di trovare i futuri compratori, guarda caso, delle altre quattro banche famose per altri motivi. Ricordiamo bene le banche espropriate dal decreto salvabanche, grazie all'azione sua Ministro, ma anche di Banca d'Italia e della Commissione europea. Ma non finisce qui. Molti cittadini stanno andando oltre, sono rivolte alle procure che stanno indagando, ma si trovano ostacoli insormontabili, come il diniego alle erogatorie internazionali. Ebbene, Signor Ministro, se veramente vuol dare la prova che sta facendo qualcosa per tutelare i diritti dei cittadini italiani, ebbene, faccia qualcosa di concreto e ottenga la pubblicazione della sentenza e le erogatorie internazionali. Si è esaurito lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 16 con il seguito della discussione del disegno di legge recante e delega al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. La seduta è sospesa. Grazie. Grazie.